L'oro è da sempre considerato un bene rifugio, ma come si confronta con gli investimenti immobiliari e azionari? Recentemente l'oro è stato spinto dagli acquisti massicci delle banche centrali e dalle tensioni internazionali. Nel brevissimo termine ha sovraperformato l'S&P 500 e il Dow Jones, ma già a 5 anni la situazione cambia. Scopri di più nell'articolo.